Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qui con una special guest Ovvero col panino pool park Della Lidl, perchè me l'avete chiesto in un sacco Di provarlo, ce ne sono tantissimi Di panini alla Lidl, ma io ho provato questo E quindi Ho una fame da lupi, non mi dilungo troppo in chiacchiere Partiamo subitissimo E' stra stra Buono Questo sarà più un video mukbang Perchè io video smr proprio non riesco a farli In senso che parlo E mastico in un modo pietoso Questo panino è stra stra buono Questo panino è stra buono L'ho pagato poco E' davvero Top 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 Io adoro fare i video mukbang Perchè piacciono sacco anche a voi E quindi Se a voi piacciono Mi piacerà farne in futuro In poche parole I video in cui mi ingurgito E' davvero stra 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 buono Io lo amo Anche se da mangiare E' bello tosto Per quelli che mi chiedono Come mi tengo in forma E mi tengo in forma Per appunto così Ovvero Mangiando qualsiasi tipo di cosa Quindi Ok Fatemi sapere se anche voi L'avete Fatemi sapere se anche voi L'avete provato Principalmente la cosa Che mi fa più ridere Che voi davvero mi chiedete Come mi tengo in forma Bla 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 Ma anche non Cioè proprio Mi tengo malissima in forma Nel senso che Mangio di tutto E Cioè E si vede ragazzi Comunque Non so Volevo sapere Prima di tutto Intanto vado avanti A mangiare il mio panino Prima di tutto Volevo sapere Se mi consigliate Degli altri video Da fare Sia slime Che non slime Anche quelli non slime Vanno bene comunque Cioè Mi sto ingurgitando E sporcando tutta Adesso parlare in pubblico Perché Mentre mangio Perché Boh Non si sa mai cosa esce Quindi appunto Fatemi sapere Prima di tutto Che altri video Volete che io Relati sul canale Slime Non Sapete slime Dovete iscrivervi al canale Attivando le notifiche Mettere un like E lasciare un commento Qui sotto Con la ricetta E prima o poi Le faccio tutte Sapete altri video Lasciatemi Comunque appunto Un commento Qui sotto E Io vi prometto Che Farò tutto Mamma mia ragazzi Sicuro che è una delle cose Più buone Che abbiamo Ho mangiato E nulla Però mi vergogno Troppo Mangiare in pubblico Devo ancora capire Come mai I video I video Mookbang Hanno tutto Questo Gran successo Aiuto Ne ho fatti In passato Hanno sempre avuto Tutti Un buonissimo Successo Ma non mi sono mai Non ho mai proprio Capito il perché Perché alla fine È un video Dove io Mi ingurgito Di cibo Eppure La gente Piace Vi faccio vederlo Fatemi sapere anche Qual è Il vostro panino Preferito Della Lidl Perché almeno Vado a provarlo E lo proveremo Insieme E nulla ragazzi Questo video Dove mi ingurgito È praticamente finito Quindi Niente Cioè Non so più Che dire Veramente Perché Appunto Mi sono ingurgitata E ho mangiato Un panino Per fortuna Alla Lidl L'ho preso Solo un panino Stasera Filmerò Il video Sul mcdonald Da sport Quindi sarà Un'altra buffata E nulla Io spero Che voi Abbiate passato Una bella giornata E che vi Abbiate venuto compagno Vi mando Un bacione E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao